Salve a tutti, sono la mamma di un bambino di 7 anni e mezzo che ha una disabilità dovuta a una malattia genetica rara. Vi voglio raccontare brevemente con questo video come noi stiamo vivendo questo periodo confinati in casa a causa del coronavirus. Da 7 anni la nostra quotidianità è ben strutturata e scandita da ritmi abbastanza incalzanti perché tutti i giorni eravamo abituati a fare le piste tra casa, terapia, scuola, attività. Ma erano proprio questi gli stimoli che permettevano a Tommy quotidianamente di esercitarsi, di consolidare le sue risorse, di apprendere nuove cose e di sperimentarsi e di crescere. La frenata dovuta a questa situazione è stata davvero inaspettata, è stata davvero brusca e gli equilibri improvvisamente sono stati stravolti. In breve tempo abbiamo dovuto per forza trovarne altri diversi, non è stato sempre facile, a volte anzi davvero faticoso. La fortuna che abbiamo avuto è sicuramente quella di non essere stati lasciati soli da tutte queste persone che quotidianamente ci circondavano e di aver avuto davvero persone speciali dalle terapiste, lui è seguito dalla neuropsichiatria infantile, a crema, dalle maestre sempre disponibili, sempre presenti anche con dei brevi video di saluto, presenti proprio anche a livello affettivo. Insieme, poco per volta, passo dopo passo, abbiamo aggiustato il tiro e proposto a Tommy delle attività che fossero sempre più alla sua portata, per esempio, niente video lezioni o terapia a distanza che abbiamo appunto provato, ma Tommy non riusciva a seguire per un problema di attenzione che è proprio dovuto alla sua patologia. Io, mamma, ce la sto mettendo tutta, anche se mi rendo conto che non è la stessa cosa, non è come prima, manca sempre quel pezzettino importantissimo del puzzle che è la loro relazione, un rapporto che hanno costruito anche faticosamente nel tempo e consolidato. Io questo non glielo posso dare. A volte mi chiedo anche come avrei fatto a seguirlo e a seguire tutto questo se non avessi potuto scegliere di sospendere la mia attività lavorativa in questo periodo, perché per fortuna o per sfortuna sono una libera professionista. Spesso è davvero faticoso, però sono contenta di aver fatto questa scelta. Sono preoccupata per quello che ci aspetterà, per l'organizzazione dei prossimi mesi, il lavoro, il ritorno al lavoro è prossimo e l'estate è lunga. Che dire, è stata un'occasione per stare più insieme, per dedicarci del tempo facendo il possibile e a volte anche l'impossibile.